La cover gear di oggi è la bellissima Karina Haaf, la ragazza col sorriso più bello del mondo, come l'hanno definita tutti quelli che l'hanno conosciuto e amata. Una donna simpatica e sensuale che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, strappata via da un brutto male nel 2016, a soli 55 anni. Inallegato allo short troverete il podcast dedicato a questa indimenticabile attrice, dove potrete conoscerla e ammirarla in tutta la sua bellezza. Se ti sei perso una puntata del podcast dedicato alle B-movie gear del cinema italiano, la puoi recuperare nella playlist dedicata. L'edizione italiana del Playboy Oltra le Mani è del mese di dicembre del 1981. Alla prossima, resta sintonizzato sulla soffitta. Ciao!